La tecnologia spinge il turismo tranese, presentate le nuove installazioni della cartellonistica turistica nel centro città che hanno come obiettivo quello di valorizzare il ricco patrimonio artistico e raccontare la storia spesso dimenticata della città di Trani, in che modo attraverso le tecnologie QR code e chip near field communication che consentiranno al visitatore ma anche ai cittadini tranesi stessi di accedere con il proprio smartphone a varie schede informative del patrimonio culturale in lingua italiana e inglese, redatte da Andrea Moselli, esperto di storia locale e guida turistica. I nuovi pannelli si trovano in via San Giorgio, angolo via Mario Pagano, in piazza Mazzini, nel quartiere ebraico e in zona Castello Svevo. Oramai Trani, nel comparto turistico della Puglia stessa, perché dobbiamo parlare di Puglia e non solo della città, è oggettivamente meta turistica internazionale. Ovviamente per la zona della Giudecca è stato necessario e doveroso fare, ormai d'obbligo l'inglese, anche a traduzione per tutti quanti, coloro che vengono da Israele e non solo. Abbiamo voluto rendere tutto il patrimonio storico e artistico della nostra città su impulso del sindaco che avvertiva l'esigenza di sostituire la segnaletica ormai faticente, obsoleta o a volte anche mancante, con una segnaletica innovativa che non soltanto indicasse i vari immobili presenti nella nostra città di carattere ovviamente storico e artistico, ma soprattutto fornire le informazioni su quella che è la conoscenza e il valore di questo immenso patrimonio. Il progetto si chiama Trani Città in Tasca. Quale miglior slogan per una città a portata di telefonino? Veramente una città in tasca, con totem di zona che sono fondamentali per spiegare un po' anche la storia della nostra città, con nuovi pannelli che hanno sostituito dei vecchi pannelli ormai troppo obsoleti, con pannelli aggiuntivi rispetto a quelli che c'erano, ma lasciatemelo dire, soprattutto finalmente con una tecnologia al passo dei tempi. Oltre ai nuovi pannelli sono stati anche sostituiti 21 cartelli turistici ormai datati davanti a diversi luoghi di interesse. Nel complesso l'iniziativa ha già riscosso i primi consensi fra i turisti provenienti dall'estero. Vi ringrazio molto per aver creato un'applicazione così efficace, organizzata e ben strutturata. L'ho scaricata subito da internet e non ho avuto nessun problema. Sarebbe meraviglioso se tutte le città italiane avessero qualcosa di simile per noi turisti.